Oh Raffaele, oh Raffaele! Mi avete chiamato? Che stiamo facendo? È arrivato in postino! Brava, brava! Ma non è tirata la posta ma non è coccuruta Ma guarda, ma hai fatto come mi avevi detto Muitatemi sotto un bancolotto Brava, no, perché io la posta la devo controllare Eh, lo sai Senti, ti devo dare un compito molto importante e difficile Assetto Brava Devi andare a giocare dei numeri al bancolotto Lo sai fare? Si! E allora prendi la carta e prendi La penna sta qua La carta sta qua E che fai con questa carta qua? La carta per scrivere Ma lì va a mezzo Ah, adesso l'ho sempre servito Eh vabbè ma non fa niente Scrivi qui ancora, scrivi 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 14 Umbriaca 47 Ho molto che parla È il momento difficile Eh? La signora incoronata l'indolietto La signora incoronata l'indolietto La signora incoronata l'indolietto La signora incoronata l'indolietto Si Quanto fa la signora? Lei ma che state facendo? Ssssssss State patente O Raffaele sta dando i numeri Pensando Non tornare un muto sta rastando Perciò Ecco qua, ecco qua In continente In coronata 90 90 in coronata Ma cosa sono questi numeri? I numeri di stanotto Pfff E che non sai che ci volessi Monna Chiarina Che l'era così brava Paccato che è morto Raffaele Raffaele E dopo questa faticata Ci vorrebbe l'espresso E te ne ha piaciuto giornalare Raffaele Anzi Ma cagli esci una volta Ma io dicevo caffè E ne avanzo due Perciò Perciò Perciò